Il lunedì è come le gare, mi festeggio a casa, tra pochi intimi, sera venerdì e sabato c'era la festicciola, invece così non va bene, vista le nebbie e poi sto in zona, comodo. Tra l'altro 50 come De Vittorio, che per te sono 51? Più no, quest'altro anno lo devo festeggiare, quindi mezzo secolo, è bello festeggiare con Alberto e chi vuol venire, di voi, grazie. Ti hanno chiesto tante volte se c'è un tuo erede nello sci, ma oltre lo sci lo vedi un tomba nello sport di oggi, chi potrebbe essere? Adesso stasera, non so se sapete, vabbè, un grande paltrinieri, che poi Emiliano anche lui, la fede è già affermata tanti anni, di tutti gli sport, lo auguro nello sci che venga fuori. Ecco, al momento non c'è, manca qualcuno costante, come se io e la compagnola facevamo negli anni 90, che dire, non è facile. Due vittorie più belle invece? Dalla prima all'ultima, come dico sempre, e di mezzo c'è le Olimpiadi Mondiali, a Alberville, a casa mia non potevo tradire. Sera Nevada, ma non solo. Ma è bisogno di andare a scendere, questa cosa. No, 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 non nevica più come una volta. Nella situazione dell'uscita italiana attuale, a parte della Gogia, ma in effetto sempre bisogna più parlare di era tomba e era posto. Che dire, c'è, forti nelle discese, nel... scusate, nelle discese siamo forti, nello strano è gigante, manca qualcuno. Grazie. Grazie.